Buonasera amici della fisarmonica, siamo qui, stiamo realizzando la dispensa di come comporre tutti gli accordi sul manuale sinistro di una fisarmonica bassi standard, diciamo i tutorial che sono presenti sul canale youtube Gianluca Pica. Quindi adesso vi facciamo vedere ciò che stiamo realizzando e questa dispensa uscirà da circa un mese, un mese e mezzo, sia in formato ebook, quindi in modo digitale, che in formato cartaceo. Adesso vedremo cosa stiamo realizzando. Allora lui è Michael, con Michael stiamo realizzando questo bellissimo lavoro, allora descriviamo un attimo agli amici ciò che stiamo facendo. Stiamo realizzando praticamente una dispensa che non è altro che la falsariga di quello che è stato detto nei video tutorial che sono stati pubblicati su youtube, benissimo, e praticamente stiamo mettendo nero su bianco tutte le informazioni fondamentali, stiamo mettendo i link per poter comunque sia raggiungere i video su youtube, accompagnando tutte queste informazioni con delle immagini, benissimo, le informazioni diciamo indicate sullo schermo. Benissimo, le freccette su come prendere le varie posizioni di accordi, le varie posizioni accordali, come per esempio abbiamo utilizzato freccette per semplificare magari la comprensione di alcuni passaggi. Benissimo, procediamo, facciamo vedere ciò che stiamo realizzando e questo è la composizione dell'accordo, ci troviamo sul minore settima, sul nona maggiore. Ok, benissimo, quindi questo è l'accordo, la composizione del, vediamo dove si legge praticamente la... Allora il titoletto della minore settima nona sta scritto qui, è da aggiustare un po' il formato generale, però... Benissimo, minore settima no, minore settima no, vediamo come si compone, da che parte quindi scendendo, quindi c'è qui tutta la storia della composizione e poi... L'immagine tattica. L'immagine tattica, bene. Allora ragazzi, noi siamo qui, stiamo lavorando per voi per semplificare il tutto e a prestissimo con la dispensa di come comporre tutti gli accordi sul manuale sinistro di una fisarmonica a Bassi Standard. Un saluto da Gianluca e Michael. Ciao. Ciao a tutti.